Buonasera, domani è un giorno importante perché dopo una lunga chiusura, mesi, riaprono molte attività. I dati sull'andamento dell'epidemia, come sapete, sono confortanti e quindi possiamo con prudenza, con cautela, fare questo passo. Riaprono innanzitutto i negozi, i bar e i ristoranti e per ognuna di queste categorie il governo e la regione hanno previsto regole e precauzioni particolari che trovate sul sito del comune. Sono comunque facilmente riassumibili. Vanno evitati gli assembramenti e quindi la prima regola è quella della distanza, un metro di distanza almeno dagli altri. Questo significa concretamente che nei negozi potranno entrare poche persone alla volta, che nei bar e nei ristoranti i posti a sedere saranno a loro volta ad un metro di distanza almeno e che nei bar non potranno entrare più persone di quanti non siano i posti a sedere disponibili. E' chiaro che questo comporta un sacrificio per gli operatori del settore che vedono ridursi i posti a disposizione. Ed è per questo che proprio oggi ho firmato un'ordinanza che consente loro gratuitamente di ampliare i deor, se già esistono, spazi con tavolini e sedie o di crearne di nuove utilizzando spazi pubblici, spazi pedonali, piazze, aree verdi, ovviamente garantendo la sicurezza stradale, il decoro e rispettando alcune particolari prescrizioni per la sicurezza ad evitare assembramenti e quindi il rischio di contagi. Quindi nei prossimi mesi avremo una città sicura ma viva e un nuovo uso dello spazio pubblico. Nei bar il servizio al banco sarà consentito soltanto se si può assicurare almeno un metro di distanza tra un avventore e l'altro. Sarà sempre obbligatorio l'uso della mascherina per i commessi dei negozi, per i baristi, per i camerieri nei ristoranti e anche per i loro clienti, eccezione fatta nel tempo della consumazione. Distanze e mascherine sono questi i principi fondamentali. Il terzo è l'igiene, che si traduce nel doversi lavare spesso le mani, come abbiamo imparato, nell'obbligo per i titolari degli esercizi pubblici dei negozi di rendere disponibili prodotti igienizzanti facilmente per i loro clienti, oltre che nell'usare i guanti, ovviamente nella preparazione del cibo. Nei ristoranti dovremo usare confezioni monouso di olio, sale e aceto, mentre i menù dovranno essere usegetta oppure plastificati in modo da poterli sanificare facilmente oppure scaricabili sui cellulari dei clienti. E i tavoli dovranno essere sanificati dopo ogni servizio. Anche i clienti che andranno nei negozi a comprare scarpe o vestiti e vorranno provarli dovranno utilizzare guanti monouso prima di toccare gli articoli. Riaprono anche i parrucchieri, gli acconciatori, gli estetisti, con sollievo di molti, io domani vado ad alleggerirmi un po' la chioma, e anche per questi le regole sono le stesse sostanzialmente, cioè prenotazione obbligatoria, un metodo di distanza, obbligo di mascherine, nel caso degli estetisti dovranno usare anche una visiera protettiva e mascherine FFP2 senza valvola, igiene delle mani e pulizia dei locali e delle superfici. Infine abbiamo un calendario anche delle prossime riaperture. Venerdì finalmente riaprono i musei della città e l'Accademia Carrara, con numeri contingentati, mascherine obbligatorie, un metro di distanza, in modo da poter essere sicuri nel visitarli. Il 25 riapriranno le palestre e le piscine, il 3 di giugno il servizio di interprestito dei libri, mentre per le biblioteche dovremo aspettare ancora un po'. Il governo poi ha detto che dal 15 di giugno riapriranno anche i teatri e i cinema, con posti distanziati e particolari misure di precauzione. Insomma, riprendiamo gradualmente le nostre attività. Non possiamo dire che torniamo alla normalità, perché sappiamo che non è così. Il rischio del contagio è sempre presente, questo condiziona tutti i nostri comportamenti e ci spinge ad essere molto prudenti. Stamattina sono andato a fare una passeggiata sui colli, ho incontrato tante persone, tante, però tutte con la mascherina, rispettose della distanza, tanto che nel registrare il messaggio vocale che ho mandato oggi pomeriggio, come d'abitudine alle utenze fisse di alcuni nostri concittadini, ho fatto i complimenti, ho detto grazie, continuate così. Ho visto però poi, più tardi, delle fotografie del pomeriggio che ritraggono le persone a passeggio in città alta, sulla Corsarola o in città bassa, in piazza Pontida, e ho visto tante persone senza mascherina o con la mascherina abbassata o troppo vicine. Io capisco che quando uno fa l'aperitivo, insomma, prende l'aperitivo, non può bere, mangiare e tenere sulla mascherina, ma si capisce quando le persone sono prudenti e quando non lo sono. E l'immagine che ho visto oggi pomeriggio mi sembra che documentassero il fatto che ci sono tante persone che non hanno usato la giusta prudenza. Quindi, permettetemi, rischio di essere un po' pedante, ma di ripetermi. Per favore, adesso che si va a riaprire, soprattutto adesso che si va a riaprire, cercate di usare la testa, nessuno vi dice di restare chiusi in casa perché non sarà possibile da qui in avanti. Ma bisogna, nell'affrontare la vita quotidiana, nell'incontrare gli altri, nell'andare appunto per strada, passeggio con gli amici, rispettare quelle semplici regole. Distanza di sicurezza e mascherina, sempre, per piacere. ne va della nostra salute, ne va della possibilità di evitare di qui a poco di ritrovarci ancora nei pasticci. Grazie di avermi ascoltato e buona serata.